Il Presidente della Regione Marco Marsiglio ha firmato il decreto con cui autorizza i comuni del cratere sismico del 2016 a procedere in qualità di soggetti attuatori all'avvio della fase di esecuzione degli interventi facenti parte dei programmi delle opere pubbliche approvati. Una decisione scaturita a seguito degli impegni assunti a Teramo nel corso del Comitato Istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione. Dunque ora le amministrazioni pubbliche interessate potranno così appaltare in proprio attraverso le centrali di committenza comunali le opere pubbliche ricadenti all'interno del proprio territorio. Noi nella riunione che c'è stata qualche settimana fa del Comitato Istituzionale come sindaci abbiamo fatto presente questo aspetto ovvero che la legge 189 praticamente parlava di una stazione unica appaltante regionale quindi abbiamo chiesto a che punto si trovasse all'estimento di questo ufficio. C'è stato risposto che ancora insomma doveva essere organizzato e quindi abbiamo fatto questa proposta cioè trasferire ai comuni la possibilità di espletare le procedure di gara per quanto riguarda la ricostruzione pubblica. Adesso con questo decreto ce n'è data facoltà io insomma accolgo questa notizia davvero insomma di buon grado e insomma ringrazio anche la giunta regionale perché ci permetterà io per esempio a Castelli ho due progetti uno per il museo dell'artigianato l'altro per una casa popolare nella frazione di Colle d'Oro e potrò procedere all'espletamento della gara e dare comunque una risposta ai cittadini. Mentre sul fronte della ricostruzione delle abitazioni? Sul fronte della ricostruzione su Castelli la situazione è diciamo complessa nel senso che va ragionata dal 2009 quindi non solo sul 2016. Noi abbiamo aggregati che rientrano la ricostruzione del 2009 che sono la maggior parte più quelli del 2016. Diciamo che per fare un ragionamento generale in tutti e due gli aspetti bisogna accelerare sia per quanto riguarda l'ufficio territoriale della ricostruzione che è quello di Montorio a cui rifacciamo riferimento per il 2009 sia per quanto riguarda l'ufficio speciale per la ricostruzione del 2016. Bisogna accelerare anche se mi sento di dire che la gestione in questa fase di interregno della triade Rivera, Misantoni e Jovino è stata comunque positiva, si è vista un'accelerazione.